buonasera buonasera a voi tutti che ci seguite eh oggi ventinove gennaio duemilaventuno altra puntata di creare il futuro prosinone al centro e prospettiva amministrative del duemilaventidue come di consueto abbiamo per Paolo Segneri regista scrittore e presidente dell'associazione prosinone al centro e oggi come ospite diciamo tra gli ospiti variabili delle varie forze politiche che si avvicennano eh Giuseppe Scaccia commissario di Forza Italia a Frosinone se non erro dal duemilasedici già consigliere e assessore comunale appunto in questa cittadina che nel duemilaventidue eh si appresta appunto a un appuntamento eh elettorale per per il sindaco e il chiaramente il consiglio eh come appunto negli altri appuntamenti eh il nostro interesse è soprattutto per quanto riguarda ehm la selezione dei candidati eh a questo appuntamento elettorale e quindi il dibattito che in qualche modo anticipa e precede la eh campagna elettorale di questo parliamo io do subito la parola a Pierpaolo Segneri che farà gli onori di casa come di consueto diciamo a te Pierpaolo e ringraziamo ovviamente Giuseppe Scaccia di essere qui su Libri TV. Grazie eh Gianni eh ringrazio anch'io Giuseppe Scaccia eh anche nelle scorse eh puntate nei vari dibattiti una cosa che come associazione Frosinone al centro abbiamo voluto sottolineare è che eh per noi le persone vengono prima dei programmi eh e tutto quello che riguarda l'aspetto programmatico che è un elemento che emerge poi durante la fase elettorale e di presentazione dei candidati e ovviamente eh delle liste che sostengono questi candidati per noi il punto di partenza sono le persone perché le idee camminano sulle gambe delle persone e quindi mh vogliamo ridare centralità alla alla qualità alla capacità alle caratteristiche eh umane e rimettere al centro la politica ecco perché eh già eh in altre occasioni avevo ripreso il discorso delle elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco il sindaco a Frosinone si elegge per via diretta cioè eh si c'è il meccanismo diciamo all'americana per cui i sindaci ormai dal mila e neocento novantatré in Italia vengono eletti direttamente dai cittadini non come succedeva prima quindi è la persona che è al centro ovviamente ci sono delle liste dei partiti dei movimenti che sostengono il candidato ma è il candidato che incarna e impersonifica eh il il programma uno eh ai tempi di del sindaco Paolo Fanelli no? Giuseppe Scaccia è stato assessore in quella giunta eccetera ebbene Fanelli eh le persone dicevano e questo è il programma di Fanelli non dicevano il programma di Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, capito? È il candidato, la persona che in questo modo eh si presenta con le idee e con quella prospettiva del futuro che vuole per la città. Ecco perché le elezioni primarie le elezioni primarie rimettono proprio al centro la persona, il candidato con le proprie idee e all'interno di una coalizione ci possono essere diversi candidati che non è detto che abbiano tutti lo stesso programma cioè l'associazione Frosinone al centro vuole ribaltare completamente quello che si va dicendo e vado leggendo per cui prima si preparano i programmi prima si preparano le cose e poi troviamo il candidato troviamo che poi non si capisce chi lo deve trovare le segreterie di partito forse noi dell'associazione Frosinone al centro vogliamo invece spingere continuiamo a spingere perché sia il centro-destra Frosinone sia il centro-sinistra facciano per le prossime elezioni amministrative prima delle elezioni primarie. A tal proposito eh proprio domenica ventiquattro gennaio eh su questo argomento è intervenuto l'assessore eh Fabio Tagliaferri che eh sul Ciociari oggi eh ha rilasciato un'intervista molto interessante dice così Frosinone è cambiata spero che pure Fabio accetti poi di parlare qui su eh liberi punto dv perché dice una cosa interessante da una parte eh fa riferimento alle elezioni primarie che il centro-destra fece nel duemiladiciassette poi casomai Giuseppe ci dice qualcosa e ci ritorneremo ma eh dice giustamente che eh leggo proprio testualmente no sono cresciute persone e figure tra gli assessori consiglieri comunali di questa consigliatura competenti da punto di vista politico e amministrativo che hanno tutte le credenziali per poter aspirare alla candidatura a primo cittadino un una grande ricchezza la eh del candidato deve essere deve passare eh necessariamente attraverso le elezioni primarie attraverso una legittimazione popolare e poi aggiunge una nota siccome le elezioni del centro-destra la volta scorsa furono elezioni libere aperte potevano candidarsi e votare cittadini di Frosinone anche che non facessero parte dei partiti della coalizione che non facessero parte della coalizione non fossero espressione dei partiti anche come elettorato attivo oltre che l'elettorato passivo cosa molto interessante in più libera aperte tutti potevano partecipare ma in più anche i ragazzi dai sedici anni in su cosa molto bella molto interessante quel insomma quel regolamento delle primarie del 2017 mi piacque tantissimo poi ne parliamo però che dice inoltre non sosterrò mai la candidatura di una persona che non rientri nel novero dell'attuale maggioranza quindi non sarebbero più elezioni primarie per la città libere e aperte perché se una persona non fosse espressione di partiti o liste civiche già presenti nella coalizione di centrodestra eh l'assessore Fabio Tagliaferri dice che lui non ne voterebbe mai ecco è interessante questa cosa lascio un po' così anche per creare mh intensità nel dibattito eccomi eh buonasera un saluto anche da parte mia a tutti voi ha toccato diversi argomenti e ha eh ha creato un po' di spunti Paolo e Pierpaolo per questa discussione innanzitutto faccio un passo indietro le primarie sono un'invenzione tra virgolette delle forze di centrosinistra perché sono state le prime ad utilizzarle anche quando nel centrodestra appunto le candidature venivano scelte esclusivamente nelle sedi di partito insomma dei partiti principali l'idea però a noi a Frosinone proprio città chiacque molto tant'è che nel duemila e dodici organizzammo le prime primarie fu la prima volta che in una coalizione di centrodestra vennero fatte le primarie però a differenza di quelle del duemiladiciassette delle quali stava parlando Pierpaolo furono limitate ai soli eh partiti del centrodestra quindi erano solo candidati di Forza Italia di Allianza Nazionale che erano gli unici due partiti poi in quel periodo non c'erano Fratelli d'Italia e altri partiti che sono sorti successivamente fu una operazione titanica perché non essendo presenti in comune come eh come maggioranza perché eravamo eh opposizione non chiedemmo l'utilizzo delle strutture comunali quindi organizzammo in bar locali le sezioni avemmo problemi per il reperimento delle liste elettorali e per cui la eh lo spoglio dei voti venne fatto eh a mano la l'individuazione dei eh dei votanti venne fatto a mano questo portava chiaramente con liste manuali portava chiaramente a problemi dovuti al fatto che una persona avrebbe potuto votare in più sezioni più volte nel corso della giornata falsando così il voto totale perché non avevamo un riscontro informatico dei voti già eh espressi di conseguenza comunque superammo questo problema dividendo la città in zone problemi che poi nel duemiladiciassette chiaramente abbiamo superato avendo cinque anni di esperienza alle spalle e l'organizzazione chiaramente del comune stando in in maggioranza abbiamo chiesto l'utilizzo dei locali comunali abbiamo chiesto il supporto del CED per quanto riguarda le liste elettorali però di questo ne parliamo dopo era solo per fare una premessa ovvero una caratteristica tipica delle forze centrosinistra è stata adottata da noi perché quando un'idea è buona è giusto portarla avanti indipendentemente da chi la utilizzi per primo quindi ci è sembrata una buona idea e l'abbiamo adottata il dibattito ogni tanto scompare e poi riappare devo dare merito a Pierpaolo che l'ha riposto prepotentemente agli onori della cronaca nelle ultime settimane perché adesso se ne comincia a parlare lui ha eh ha fatto notare l'intervento di Fabio Tagliaferri ma io gli faccio notare l'intervento del circolo di Fratelli d'Italia che c'è stato ieri e che si sono dichiarati anche loro favorevoli alle primarie è la prima volta che Fratelli d'Italia si esprime in tal senso però anche loro c'è hanno fatto un riferimento all'attuale coalizione quindi c'è una piccola tra le righe ci sono piccole però grandi differenze rispetto all'esperienza del duemiladiciassette in cui veramente sono state aperte a tutti allo stesso Pierpaolo che non faceva assolutamente parte dell'amministrazione e si è candidato organizziamo incontri periodici itineranti nella città per far conoscere i candidati ci fu un discreto successo anche di di votanti perché si superarono i tre quattromila votanti insomma senza pubblicità e senza mezzi che permettessero a tutti di conoscere il fatto che si sarebbero svolte le primarie è stato un grosso successo e particolare da non trascurare il candidato sindaco che sarebbe stato candidato di diritto le pretese per confermare la propria candidatura perché Nicola Ottaviani era già sindaco avrebbe avuto di diritto la candidatura alla seconda consigliatura invece volle passare per le primarie proprio per testare il favore nei confronti della cittadinanza e delle persone che lo seguivano quindi questi particolari aspetti secondo me sono molto importanti altro aspetto molto importante che prima a cui prima ha accennato Pierpaolo è il fatto di mettere al voto persone dai sedici anni in su come discuteremo giorni fa con Pierpaolo questi sono i cittadini del futuro è giusto cominciare a farli partecipare attivamente alla vita della città così si possono rendere conto delle delle persone che poi governeranno il loro futuro anche se solo dal punto di vista locale amministrativo però è importante perché una città vivibile chiaramente permette a tutti di seguire meglio le proprie aspirazioni e avere una vita migliore in senso lato quindi penso di aver terminato intanto il mio prima di cinque minuti d'accordo stavo vedendo un po' fra l'orologio e le cose varie per no no ma ci sono io qui apposta a fare ah perfetto riferendo allora la parola per dire eh giustamente Giuseppe ha ricordato dei passaggi fondamentali eh anche perché la storia di un di un evento va sempre riposta all'attenzione perché è importante la memoria se si vuole costruire il futuro bene eh le primarie ovviamente eh rispecchiano il modello americano essendoci l'elezione diretta del sindaco il modello americano significa anche creare i presupposti di eh dibattito dialogo discussione di partecipazione di cittadini che non è semplicemente poi durante le elezioni primarie a poi andare a votare il il candidato ma significa partecipare attivamente alla eh fase di dibattito e discussione delle elezioni primarie e che ripeto rimettono la persona al centro ci sono quattro cinque candidati ebbene ognuno porterà le proprie idee su Frosinone ciascuno porterà il proprio metodo ciascuno porterà le proprie proposte e ci sarà un confronto dibattito tra questi candidati e il cittadino osservando eh questo tipo di contraddittorio può farsi un'idea su quale idea è più ehm adatta eh quale idea è più adatta alla propria sensibilità o la propria visione quindi eh le primarie servono anche per riaccendere l'interesse politico eh dei cittadini su sulla città attraverso i candidati perché in quel momento i candidati alle alle primarie non rappresentano un partito di per sé possono essere espressioni di un partito ma dello stesso partito potrebbe esserci più di un'espressione più di un candidato o potrebbero esserci dei partiti che non candidano un loro eh esponente come secondo me sarebbe giusto e corretto come è successo un'altra volta con un regolamento ripeto delle primarie del 2017 per la città primare libera aperte un regolamento veramente fatto bene una delle cose che ho detto all'avvocato Nicolo Ottaviani una delle cose migliori che ha fatto sembrava veramente una cosa che avrebbe potuto scrivere Marco Pannella e dove ho trovato la conferma che molti nella sua coalizione hanno storto il naso qualcuno non era contento e questa cosa visto la preponderanza di un discorso ehm per le primarie veramente innovativo ancora oggi anche nel centrodestra che ha sperimentato queste cose non ci sono tutti insomma d'accordo su questo evidentemente mh va ad intaccare eh certe posizioni di rendita certe situazioni ambizioni personali eh che con diciamo contrastano invece con l'interesse dei cittadini quale interesse migliore per un cittadino offrire eh la possibilità di scegliere quale è il candidato a sindaco almeno della diciamo eh per evitare io sono proprio contrario che le le scelte vengono fatte a livello verticistico cioè si incontrano i segretari di partito e decidono già prima chi sarà poi il sindaco di Frosinone e chiamano poi i cittadini alle elezioni solo a ratificare una scelta già fatta ai vertici e quindi è ovvio che in questa logica devono fare prima i programmi e poi si vede il sindaco perché prima contano i partiti la partitocrazia anzi magari i partiti perché i partiti non ci sono più la partitocrazia e poi i candidati invece questo regolamento Nicola Ottaviani ribaltava nel modello americano quello che a me piace eh la logica e quindi anche la lo spazio per un outsider cioè anche un un esponente della cittadinanza di Frosinone che volesse candidarsi alle elezioni pur non avendo un partito dietro pur non facendo parte della coalizione di centrodestra attuale neppure delle liste civiche potrebbe potrebbe secondo me trovare lo spazio per candidarsi ma questa cosa vale a destra come a sinistra eh perché pure a sinistra se fanno le elezioni primarie con solo i i diciamo gli iscritti a partito democratico eh a poco senso a senso a destra come a sinistra al centro come altrove se si allarga la coalizione se ci sono interessi anche hm diciamo ad arricchire il dibattito motivo per cui mi candidai nel duemiladiciassette per alzare il livello del dibattito creare discussione favorire il contraddittorio e fare in modo che questa iniziativa avesse successo e infatti ebbe successo Giuseppe benissimo ha dato qualche altro spunto Pierpaolo ha detto prima una cosa importantissima ha detto eh ai tempi di Fanelli si diceva l'aggiunta Fanelli anche se Fanelli era di Forza Italia non l'aggiunta di Forza Italia come adesso si dice l'aggiunta Ottaviani quindi si identifica la eh l'amministrazione con il sindaco proprio per questo motivo le primarie diventano ancora più importanti perché proprio bisogna scegliere la persona quindi il dibattito che che si viene a creare deve permettere di trovare le idee migliori da poi da proporre a tutta la città. Un altro elemento infatti che ehm non fa vedere a tutti di buon occhio alle primarie è il fatto che si sfugge appunto ai alle logiche di partito eh a livello regionale provinciale quindi verticistico perché in questo modo i vertici non vengono coinvolti nella scelta del candidato anche eh quando se Pierpaolo ha cominciato a porre il problema qui sui giornali locali anche se lui l'ha posto all'inizio per la coalizione più per la coalizione di centrosinistra però si sono sentiti chiamati in causa anche gli esponenti di centrodestra tant'è vero che alcuni esponenti a livello regionale sono intervenuti dicendo che le eventuali primarie avrebbero dovuto avere l'avallo da parte dei vertici regionali quindi è un argomento che non sempre è visto eh in modo di buon occhio insomma da tutti. Eh spieghi l'aspetto organizzativo duemiladiciassette come siete riusciti a organizzare che difficoltà ci sono a organizzare le primarie? Allora nel duemiladiciassette come abbiamo già detto prima si decise di organizzare delle primarie aperte quindi chiaramente non non potendole pubblicizzare per quanto riguarda le adesioni su un su mezzi di stampa su altre cose con il passaparola praticamente si è visto nei gruppi di riferimento della dell'amministrazione quali eh formazioni soprattutto civiche fossero interessate a partecipare al dibattito. Le primarie soprattutto del duemiladiciassette sono state molto importanti perché come abbiamo già accennato precedentemente ci sono stati dibattiti itineranti fra i candidati e questa è una cosa che non si vede da almeno vent'anni perché le ehm campagne elettorali sono diventate dei monologhi dei singoli candidati non ci sono più dibattiti pubblici in cui si confrontano candidati di schieramenti i candidati di centrodestra fanno i loro comizi e parlano solamente loro quelli di centro di sinistra fanno i loro comizi parlano solamente loro quelli delle liste civiche fanno lo stesso di conseguenza non c'è mai un contraddittorio tra i vari schieramenti e che mai un confronto di idee ognuno parla solo del suo programma delle sue idee e non sente neanche né controbatte le idee degli altri quindi da questo punto di vista le primarie sono uno strumento eccezionale che ci riportano a periodi di qualche decennio fa in cui invece c'erano scontri anche dialettici da parte dei candidati di schieramenti opposti questo ci ha portato poi nel nel 2017 una volta eh trovati quattro cinque manifestazioni di interessi di interesse per quanto riguarda le candidature fra cui Pierpaolo a organizzarle da in modo chiaramente senza utilizzare le strutture comunali del tutto volontario abbiamo solamente chiesto un supporto al CED per evitare il problema che dicevo che si era verificato nella nella prima edizione delle primarie cioè il voto ripetuto da parte dei candidati perché avendo a disposizione la struttura informatica una volta che un che un elettore esprimeva il voto veniva depennato dalla lista e quindi se fosse andato in un'altra sezione non l'avrebbero trovato nella lista degli elettori per cui abbiamo affinato da questo punto di vista il il sistema è stato molto coinvolgente perché cioè abbiamo lavorato come se fosse una vera campagna elettorale per cui eh l'organizzazione è durata diverse settimane poi l'organizzazione dei seggi, gli scrutatori, il regolamento e poi eh abbiamo dovuto individuare dei tra virgolette controllori quindi che verificassero che l'andamento delle dello scrutinio nei seggi fosse regolare quindi che non ci fossero eh brogli anche se sono poco eh plausibili in queste situazioni però la cosa importante è stata eh avvicinare alcuni candidati che poi eh successivamente in nei mesi in cui si ci sono state le elezioni hanno addirittura presentato delle formazioni civiche che poi una ha avuto successo e è eletto addirittura un consigliere in comune l'altra non ha avuto successo non ha raggiunto il quorum però erano formazioni fatte di cittadini che nulla avevano a che fare con le i partiti politici e le forze politiche si sono avvicinati hanno conosciuto questa macchina la macchina amministrativa eh grazie alle primarie e hanno deciso di mettersi in gioco e addirittura quindi di fare una lista quindi questo ha permesso di allargare la coalizione anche in eh prendendo spazi che prima non immaginavamo tant'è che per la prima volta c'è stato un successo elettorale al primo turno perché anche pochi voti in più a una formazione già forte sono eh importanti poi per per il raggiungimento del risultato finale. Ehm questo eh che dice Giuseppe è verissimo tant'è vero che eh le elezioni primarie quando eh lo riportate alla luce eh cercando spazio anche sui giornali mezzi di comunicazione hanno creato un gelo trasversale sia nel centrodestra che nel centrosinistra e invece mi candidai nel duemiladiciassette in quelle organizzate diciamo dal centrodestra con Nicola Ottaviani candidata a sindaco proprio perché si creava quel dialogo quel contraddittorio quel confronto che riaccende la politica e rimette la politica eh dentro la vita delle persone che ne diventano i protagonisti i cittadini con le elezioni primarie sono protagonisti della vita politica perché ne discutono nei bar a casa in piazza partecipano scelgono il proprio candidato eh si fanno portatori di eh istanze di un determinato candidato candidato e e si forma un percorso virtuoso di vitalità soprattutto se come è successo l'altra volta posso votare anche i sedicenni i diciassettenni cioè attenzione verso gli studenti i ragazzi quindi questo questo gelo che si è creato dopo la mia proposta delle elezioni primarie eh mi ricorda molto anche il gelo che ci fu quando nel duemiladiciassette eh facemmo questi dibattiti con Nicola Ottaviani perché anche allora pur eh essendo eh stata realizzata la macchina organizzativa delle elezioni primarie qualcuno anche nel centro destra insomma non era molto contento no? E quindi quando io vedo questo tipo di reazione capisco che invece la proposta vuol dire che è adatta che funziona che è la proposta giusta quando ci sono ehm persone eh molto attaccate al proprio potere che si sentono messi in crisi perché si dà la possibilità ai cittadini di votare si dà eh quindi il potere ai cittadini di scegliere il proprio candidato eh allora vuol dire che siamo eh nella strada giusta sulla strada giusta quindi partecipare proprio per dare valore a quel tipo di eh meccanismo di selezione della classe dirigente in particolar modo per scegliere il sindaco motivo per cui lo rilancio anche per il centro-sinistra ma dovevano essere elezioni per la città libere e aperte no come dice Fabio Italiaferri che non aspetto nel dibattito se vuole eh è invitato ufficialmente che chi non fa parte dei partiti adesso della coalizione non si può candidare e lo dice se no lui non lo vota ma che vuol dire le primarie eh americane c'è sempre l'outsider chi lo sa se magari quello raccoglie più consensi e e diventa determinante proprio per la vittoria cioè allora decidere dall'alto al vertice come eh il centro-sinistra mi pare si stesse preparando e per cui io eh ho detto no non mi interessano questi questi meccanismi voglio stimolare sia nel centro-destra che nel centro-sinistra frosenate la politica che si è persa rimetterla al centro e rendere finalmente i cittadini protagonisti della vita politica non eh chiamati semplicemente a ratificare scelte altrui quindi vivare primaria benissimo condivido pienamente tutto quanto detto da Pierpaolo eh infatti gli devo dare atto e merito che ha riproposto precedentemente il problema all'attenzione dei media locali tant'è vero che come abbiamo detto anche precedentemente ne cominciano a parlare tutti quindi ogni partito adesso si sta esprimendo chiaramente il senso delle primarie è che siano aperte quella la la cosa più importante perché fare primarie chiuse in un ambito politico ehm è molto limitante sia per i candidati per l'aggregazione di nuove forze sia per eh per i cittadini perché eh si trova pensano di trovare di dover scegliere sempre fra i soliti non ha non hanno mai un volto nuovo una faccia nuova è chiaro che un outsider ha scarse possibilità di successo però intanto comincia a farsi conoscere eh dalla popolazione a a dire le idee a a proporle e magari trova la forza per scalzare qual qualcuno che ha maggiore esperienza politica ma meno idee perfetto ti diamo qui questa trasmissione in questa puntata di creare il futuro Frosinone al centro prospettiva amministrativa duemilaventidue io ringrazio Pierpaolo Segneri eh regista scrittore e presidente dell'associazione culturale Frosinone al centro e ringrazio Giuseppe Scaccia commissario di Forza Italia a Frosinone da duemilasedici e già consigliere assessore in questa cittadina grazie a voi tutti che ci seguite aperti apriamo l'invito a chiunque altro vorrà eh diciamo mh partecipare alimentare questo confronto che comincia a avere appunto in questa sua serialità un certo successo eh sui su internet viene visto insomma speriamo che sia anche diciamo portatore di eh di stimolatore di un dibattito grazie ancora seguiteci su Libri TV. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe.